grande Lazio grande grande Lazio assolutamente e quando i numeri parlano così chiaro why a chi li definisce magari fortunati o rovescio della medaglia per quanto riguarda il Napoli sfortunati i numeri sono così eclatanti c'è un pochettino da analizzarli da analizzarli assolutamente la Lazio sta facendo delle cose straordinarie decima vittoria consecutiva offre un calcio che onestamente a me piace composto da giocatori di qualità perché poi oggi ritorna a centrocampo un certo Luis Alberto a Concel e ha fatto una partita sottuosa ma che partita ha fatto Luis Alberto? Che partita ha fatto? Che partita ha fatto? Quando caressa e ora arriviamo a caressa va a analizzare i gol che subisce va a analizzare i gol che subisce il Napoli perché non mi parla della prestazione di Luis Alberto? Perché non decanta le doti di questo giocatore? Perché? Mi chiedo perché? ma prima di sfogarmi per benino prima di sfogarmi scarichiamo l'app OneFootball così rimaniamo aggiornati su tutto e di più per quanto riguarda il calcio in descrizione c'è il link è gratuito scarichiamola ragazzi sì c'è un po' il dente avvelenato c'è un po' il dente avvelenato con due soggetti con Manolas che si è rappresentato davanti alle telecamere no? a Sky se non erro appunto no noi abbiamo dominato con l'Inter ma ci va tutto male ci va tutto male giustamente e pagamo tutto a caro prezzo non abbiamo dominato noi abbiamo dominato dominato cosa? noi abbiamo dominato anche stasera scommetto che poi il Napoli abbia dominato anche stasera ha dominato Manolas se non si cambia atteggiamento se non si cambia atteggiamento si continua a perdere si continua a perdere questi calciatori devono cambiare atteggiamento 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 e poi complimenti anche a Caressa io solitamente non mi attacco a questi cavilli però Caressa che viene a dire dopo il gol di Immobile questi sono quattro gol di fila che si fanno da soli ma che cazzo stai a dire ma che cazzo stai a dire Caressa ma cosa stai dicendo sei un professionista ma che cazzo stai dicendo con l'Ida si sono fatti i gol da soli ma che cazzo stai dicendo Luca che parte da 50 metri si è fatto il gol da soli se quello scivola che colpa ne abbiamo noi ma cosa stai dicendo e poi questo fatto che i giocatori scivolano come dice Fabio Fabio eh sì Beppe Bergomi ad inizio ad inizio partita cosa dice quando si scivola quando un giocatore scivola non è una scusante è un aggravante perché che cazzo fai il riscaldamento voi mi dovete spiegare i giocatori che scivolano di continuo si fa il riscaldamento prima della partita non è che tu non lo calpesti il campo allora che cazzo valutate quando vi riscaldate i giocatori che cazzo valutano no scivolano i giocatori è colpa dell'Inter se segna quella scivolata bisogna stare accorti a tutte queste cose bisogna stare accorti questa è la realtà dei fatti questa poi sto cambio sempre di portieri poi te le cerchi perché sì ma è retta avrà commesso l'errore ma io sono sono del parere che il portiere essendo un ruolo delicatissimo poi sbaglierò questa è soltanto una mia visione ma il portiere deve rimanere uno soltanto il titolare deve essere uno e deve giocare quel che mi alterni sti portieri mi metti quello poi mi metti quell'altro poi mi rimette il portiere deve essere uno deve essere uno se no poi succedono le cagate succedono le ciofeghe e succede questo questo è il discorso punto e niente la Lazio la Lazio mi fa innamorare con quel giocatore che la cia là a centro campo ragazzi con l'immobile stesso che poi si parla di immobile è molto facile si parlerà adesso soltanto dell'errore del portiere ma valutiamo anche quello che ha fatto immobile perché poi questo non lo conta nessuno no si ha segnato il mod ma errore non è errore cioè è errore attenzione ma c'è anche un pressing importante dell'attaccante un attaccante che ci crede perché se non vai se tu vai a prestare il portiere e non ci credi non la prendi la palla ma va là e ci crede quello è un gol che si è guadagnato si è guadagnato se lo è guadagnato se lo è scolpito nel petto quel gol se lo porta dietro quello sono tre punti che si è preso ha detto dove sono i punti me li prendo mi aggrappa quei tre punti se li ha presi lui no poi poi pensiamo soltanto che segna sul rigore magari questo non glielo neanche danno perché magari daranno anche autogol di Lorenzo ma questo questo altro che gol sul rigore questo altro che gol sul rigore questi sono tre punti che si è preso lui si è aggrappato a quei tre punti se li ha portati a casa lui con quel gol ovviamente aiutato dall'erroraccio del portiere ma ci ha creduto a lui questo no questo non lo analizzerà nessuno però questo no questo lo dice Neschi e chi li sta dietro questo non analizza nessuno caressa che mi che mi parla di golle che si fanno loro perché non parla delle doti di Luisa Alberto che ha fatto una partita soltuosa ragazzi ragazzi per favore chi non l'ha visto se andasse a vedere i 90 minuti di Luisa Alberto non ha sbagliato un passaggio non ha sbagliato un passaggio apertura di gioco partiva a palla a piede saltava gli avversari dribbling turn gira cambio di passo palloni spettacolari mamma mia io voglio prendere un caffè con Luisa l'ho già detto io voglio offrire un caffè Luisa Alberto voglio offrire un caffè perché lui mi deve passare la zolletta dello zucchero voglio vedere come mi passa la zolletta dello zucchero perché anche anche nel passare la zolletta dello zucchero lui ci metterà sicuramente raffinatezza ragazzi che giocatore che è mamma mia che giocatore perché poi bravo gli allenatori bravi tutti però in campo ci vanno i giocatori e quello è un giocatore della madonna scusatemi ma è una cosa impressionante è una cosa impressionante e poi per quanto riguarda il Napoli chiudiamo il Napoli è vero è anche innegabile che poi paga paga tutto a caro prezzo ma veramente tutto però ripeto molte cose e c'è una persona che lo ammette chiaramente molte cose se le va a cercare lui stesso il Napoli se le va a cercare lui stesso perché a volte si scivola ma lo scivolare cioè ma cosa cazzo controlli quando Gattuso dice dobbiamo controllare anche i tacchetti cioè non dice c'è un'eresia non è una battuta non è una battuta là c'è da capire veramente che le cose vanno fatto meglio ci vuole più attenzione in tutto sui dettagli ci vuole più attenzione in tutto questa è la realtà portiere che cambia una volta e mette uno è questo il discorso bisogna stare attento a tutto poi nelle situazioni specifiche c'è da dire che è anche sfortunato perché Zielischi prende il palo perché Insigne fa un bellissimo tiro e il portiere la Stracosher fa una grandissima parata Stracosher sì fa una grandissima parata sull'altro tiro al volo di Insigne fa un'altra parata c'è anche sicuramente ci può anche essere un fattore sfortunato di fondo però alla lunga quando i risultati parlano chiaro bisogna analizzarli bisogna analizzarli e non creare alibi bisogna cambiare atteggiamento bisogna cambiare mentalità bisogna stare più attenti ai dettagli e con questa indicazione cercare di portare a casa i risultati detto questo niente brava bella Lazio brava Lazio brava brava c'è poco da dire complimentone a loro punto basta io vi saluto e vi abbraccio un grande abbraccio da Neschio ciao 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 Grazie a tutti.